più di 300 carabinieri all'alba hanno circondato il rione conocal di ponticelli una maxi retata che ha portato all'arresto di 90 persone tutte legate al clan d'amico i carabinieri del comando provinciale di napoli hanno accertato che la famiglia d'amico ha un controllo del territorio capillare dalle piazze di spaccia alle estorsioni dalla gestione degli immobili popolari a quella delle pulizie negli stabili del parco controllo che conserva grazie alla pericolosità degli affiliati soprattutto di quelli più giovani e dalle loro capacità militari nonché ad una grossa disponibilità di armi maneggiate anche da soggetti che in alcuni casi non hanno compiuto neppure dieci anni d'età la dimostrazione della pericolosità degli affiliati è fornita dalle modalità di azione e reazione nella faida con il clan d'emica che si avvale al pari del clan d'amico di giovani leve altrettanto ostinate e decise a non farsi prevaricare le telecamere hanno consentito di assistere a continui raid armati all'interno del conocal attuati per il controllo delle piazze di spaccio i cui gestori sono costretti a corrispondere la quota a entrambi i clan o semplicemente allo scopo di dimostrare la propria forza colpendo l'avversario le indagini della dd hanno accertato che con la cessazione del dominio del clan sarno i d'amico si erano affermati come gruppo autonomo a seguito della cattura di salvatore ercolani la guida della cosca era però stata assunta dalle donne della famiglia d'amico in particolare nunzia sorella di antonio giuseppe e danna scarallo moglie di antonio d'amico proprio nunzia d'amico lo scorso ottobre è stata vittima di un agguato ma era in casa sua che venivano prese tutte le decisioni ed è lì che i carabinieri avevano piazzato micro spie ascoltando conversazioni per quasi un anno alle origini della faida via il controllo delle piazze di spaccio a ponticelli e a caravita nel comune di cercola erano operative ben 11 piazze di spaccio di marijuana e cocaina organizzate con meccanismi di turni fissi e cambi sul posto gli investigatori hanno scoperto poi il potere del clan nella gestione degli immobili popolari attraverso l'assegnazione a titolo oneroso degli alloggi a soggetti riconducibili all'organizzazione e l'allontanamento coatto di persone indesiderate tra cui gli appartenenti alle famiglie di collaboratori di giustizia coinvolto nelle indagini sottoposto alla misura cautelare anche un medico dell'asla napoli 1 che ha redatto un falso certificato in favore di un esponente dell'organizzazione